Sono Paola Fantato, sono nata 56 anni fa, a 8 mesi ho avuto la poliomilite che mi ha colpito gli arti inferiori, questo non mi ha comunque impedito di fare una vita normale, frequentare scuole normali, avere amicizie normali, fin tanto che non ho incontrato lo sport, ho iniziato prima con il nuoto, però ho fatto anche delle gare e non ero neanche male, poi ho incontrato l'arco ed è stato amore a prima vista, io lo dico sempre perché è come quando si incontra l'uomo della propria vita, lo riconosci che è lui, così è stato con l'arco, ho avuto la fortuna di avere un maestro, un bravo maestro che era un'atleta della nazionale, un maestro di primo livello, insomma mi ha insegnato le basi in maniera corretta e da lì ho cominciato la mia avventura. Io facevo nuoto e un giorno il presidente della società di cui facevo parte è venuto lì e ha chiesto se qualcuno era interessato a provare a fare il tiro con l'arco e la cosa mi ha proprio subito incuriosito e abbiamo contattato appunto la società Ciri Scaligeri che ci ha ospitato nelle loro strutture e ho incontrato Giorgio Turrina e mi ha insegnato. Quando ho preso in mano per la prima volta l'arco che mi hanno spiegato e ho cominciato a manipolarlo un po', ho detto sì sì, mi piace proprio. Il maestro ha capito che in me c'era una certa predisposizione naturale per questa disciplina, per quello che dico anche amore a prima vista, perché altrimenti tu puoi provare tutte le discipline sportive che vuoi, ma non è che tu le possa fare tutte, ci sono certe che sono le tue nel tuo DNA, altre no. Sono diventata tanto brava che ho cominciato anche a vincere, insomma io ricordo le prime volte che andavo nei campi di gara che c'erano le altre atlete non disabili, diciamo così, che mi guardavano come dire ah dai si diverte anche lei, fa qualcosa anche lei. Poi man mano che la mia tecnica progrediva e diventavo brava, oh mamma c'è anche la Paola. E quindi questa è stata una parte delle soddisfazioni che mi sono presa. Ho iniziato nell'86 a cominciare a fare le prime gare, nell'88 ho partecipato alla mia prima Paralimpiade a Seul, vincendo la medaglia di bronzo. Ricordo che sul podio, mentre aspettavo che mi premiassero, pensavo, beh se qui ho vinto la medaglia di bronzo, fra quattro anni a Braccellona voglio vincere la medaglia d'oro. E così è stato. Visti i risultati, la nazionale Fitarco mi ha convocato per la prima volta ai raduni in previsione di Atlanta 96 e da lì ho continuato appunto a prepararmi, ad allenarmi, a competere per riuscire a qualificarmi per Atlanta Olimpiadi e ce l'ho fatta. Infatti nel 96 ho fatto prima le Olimpiadi, poi sono tornata a casa, ho cambiato la valigia, ho cambiato le magliette e sono ripartita per le Paralimpiadi di Atlanta. Inutile dire che è stata per me una grandissima soddisfazione, non ho vinto medaglie ad Atlanta Olimpiadi, però secondo me ho vinto il premio più importante perché quando io ero sulla linea di tiro non esisteva più l'handicap, non esisteva più la mia carrozzina, ma esisteva solo l'arco, le frecce e il bersaglio. Io ero temuta e rispettata da tutte le atlete delle altre nazioni, come io temevo e rispettavo loro e quando eravamo sulla linea di tiro avevamo tutte e due, perché erano scontri diretti a eliminazione, avevamo tutte e due la stessa paura negli occhi di sbagliare e di essere buttate fuori dal gioco e quindi questo secondo me è il premio più importante che io abbia vinto. Io credo di essere stata un'atleta molto severa con me stessa, perché nonostante ogni tanto gli allenatori mi sgridavano, io pensavo sempre che fosse colpa mia, ho sbagliato io se la freccia non è andata nel centro, non era mai colpa di un agente esterno e la maggior parte delle volte era così in effetti, poi a volte no, insomma perché anche il materiale bisogna sincronizzarlo, bisogna metterlo a posto, ogni tanto la tecnica, la postura, bisogna che qualcuno ti guardi, che ti riveda, insomma, però io partivo sempre dal concetto che l'arco andasse bene, tutto andasse bene, ero io che sbagliavo e questo secondo me ha fatto in modo di darmi quella spinta per perfezionarmi il più possibile. A parte la mia bravura naturalmente, però il tiro con l'arco è veramente una delle poche discipline che permette questa integrazione totale, perché è come se tu fossi alto e tu fossi basso, uno in piedi, uno seduto può fare la stessa cosa, se chiaramente il tuo fisico te lo permette, no? Mi piace ricordare anche che comunque prima del mio avvento alle gare internazionali con i normodotati non era proprio così previsto che ci fosse una persona, un'atleta in carrozzina, per cui hanno dovuto rivedere dei regolamenti, che poi sono modifiche logistiche, non certo tecniche o sostanziali, insomma, però le hanno riviste per poter permettere anche a un'atleta in carrozzina di gareggiare con i normodotati e questo mi fa piacere insomma dire che grazie a me anche questo è stato fatto, perché da allora se uno è bravo, anche se è seduto su una carrozzina può farlo. Nella mia vita lo sport ha avuto un'importanza fondamentale, nel senso che io ovviamente essendo cresciuta con questo problema, questo problema fisico, è chiaro che soprattutto nella fase adolescenziale ci possano essere dei problemi a rapportarsi con le altre persone, uno pensa insomma magari non vengo accettata oppure cose di questo genere. L'arco mi ha permesso innanzitutto di avere, di accrescere la mia autostima e di farmi rispettare o quantomeno notare che gli altri mi rispettavano, per cui io con lo sport non ho più dovuto dimostrare niente per dire che sono una persona che ha un certo valore. Secondo me l'importanza dello sport è questo, che ti aumenta talmente tanto l'autostima, perché ti rendi conto che non sei uno che non è capace di fare niente, ma sei uno che messo nelle condizioni giuste può fare grande cose. Non tutti gli atleti, anche normodotati, riescono ad andare a un'olimpiade. Quindi è difficile per tutti, è chiaro che è difficile anche per me, però se una persona come me con questo problema è riuscita a essere così brava, da riuscire a qualificarsi e a partecipare a un'olimpiade, vuol dire che anche altri possono farlo. Nella nazionale, parlo della nazionale normale diciamo, eravamo un bel gruppetto e ne partivano solo quattro per Atlanta e quindi c'era questa rivalità interna, buona ovviamente, non cattiva, ma questa rivalità interna per riuscire a conquistarsi questo posto. Ci mettiamo un allenatore coreano che ovviamente per loro, per sua cultura l'atleta doveva essere giovane, fisicamente integro, cose caratteristiche che io non avevo perché avevo già 33-34 anni circa e fisicamente non ero integra, per cui diciamo che mi ha ostacolato. All'epoca non mi bastava essere tra le più brave, ma dovevo essere la più brava, perché non dovevo dare un appiglio per scartarmi, perché ovviamente, pensiamoci, logisticamente era anche più complicato spostare una persona in carrozzina, persone sane che si arrangiano a portare valigie o non valigie, gli alberghi accessibili o non accessibili, quindi io posso capire però. E quindi io, poi tornando al discorso che dicevo prima, che hanno cambiato i regolamenti, io ricordo il commissario tecnico della Nazionale una sera mi ha convocato per dirmi, guarda Paola, che probabilmente non riusciamo a portarti perché ci sono questi problemi con regolamenti e così via. E' stata una botta ovviamente questo ragionamento, però non mi sono lasciata andare, io ho detto, beh, io intanto faccio i punti, io intanto ti dico, sono la più brava, poi ci penserete voi a dire, sono costretto o no a lasciare a casa la più brava. E così è stato, insomma, io sapevo che non potevo permettermi di essere nel gruppo, dovevo emergere, e per cui, insomma, ho lavorato tanto. Oltre alle cose negative, ovviamente ci sono state anche tante soddisfazioni, tante cose belle. Poi, ovviamente per me è stata una conquista grandissima, per cui io mi sono goduta e ho assaporato tutti i momenti che ho vissuto. Quello che posso dire è che per un qualsiasi atleta, riuscire in gara a fare il massimo, quello per cui ci si è preparati, è la soddisfazione più grande. Non sempre questo coincide con la vittoria, naturalmente. Io ho la mia soddisfazione più grande in una competizione, che si è svolta tra l'altro qui in Italia, ma era una gara internazionale. Sono arrivata quarta o quinta, e sono un ricordo di preciso, dopo un gruppo di coreane, che erano le più forti al mondo. Però ho fatto il mio record personale, ho fatto una gara strepitosa, che per me è stata la gara più bella. Per come l'ho fatta, per come l'ho vissuta e per il risultato che ho fatto. Non ho vinto, ma è lo stesso. Ci sono altre gare che magari ho vinto, però non mi hanno dato la stessa soddisfazione, perché magari non ho fatto il meglio di me stessa. Poi, parliamo di Atlanta, onestamente è stata un'esperienza più unica che rara. Cioè, ma per chiunque, voglio dire, un atleta sano che disabile. Per me lo è stato ancora di più, nel senso che vedere innanzitutto tutti quegli atleti famosi, uno, che diceva, ah, quello lì, quello lì l'ho visto in televisione, quello lì. Ed erano lì che avevano paura anche loro come me. E quindi è stato un sentirsi parte del tutto, del gruppo, è stato bellissimo. Vorrei raccontarti questo aneddoto che è successo a Madrid nel 2003. Eravamo in una pausa di questa gara mondiale, eravamo lì tutto il gruppo della nazionale italiana, disabili, e stavamo chiacchierando. A un certo punto, da lontano, vediamo un signore che si mette a correre verso di noi, no? Ma che ce l'ha con noi questo? Ce l'ha con noi? Insomma, a un certo punto viene da me, o mamma, viene da me e questo signore era un americano, il papà di una ragazzina disabile, che per la prima volta partecipava a una gara internazionale, il punto di tiro con l'arco, il quale mi dice che sono anni che mi stava cercando. Erano anni che mi stava cercando perché voleva ringraziarmi, perché ovviamente come genitore era preoccupato sul futuro della figlia, finché la figlia mi ha visto in televisione ad Atlanta, alle Olimpiadi, e ha deciso di fare anche lei questa cosa. Per cui suo padre, erano anni che mi cercava per ringraziarmi. Ecco, questa credo che abbia il valore, un valore più grande di tutte le medaglie, insomma, perché poi alla fine le medaglie, i ricordi delle medaglie, si accantonano le medaglie, sono i ricordi che ti rimangono e questo sicuramente è tra quelli più importanti, perché so che quello che ho fatto non l'ho fatto alla fine solo per me stessa, ma anche per gli altri. La mia carriera è stata lunga, ho fatto vent'anni di attività agonistica ad alto livello, questo mi ha permesso di vincere parecchi titoli, tra questi otto medaglie paralimpiche, cinque ori, un argento e due bronzi, e un bronzo a squadre a un europeo e un oro a squadre a un mondiale, con la FITARCO, quindi con la nazionale normale, diciamo. Ovviamente questo mi ha portato anche ad essere insignita di certe onoreficenze, oltre che al comandatorato da parte del Presidente della Repubblica, mi hanno recentemente insignito dell'Italian Paralympic Award per la carriera, e in più mi hanno inserito, fra le cento leggende dello sport italiano, il CONI, la Commissione Nazionale Atleti del CONI, mi ha inserito in questo gruppo di leggende e sono state poste delle mattonelle al Foro Italico con tutti i nomi nativi di queste leggende, e c'è anche il mio. Ora io ho smesso di fare attività agonistica nel 2004, dopo Atene, però l'ultima volta che ho preso in mano l'arco è stato in occasione della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Torino nel 2006, dove ho partecipato a una scenografia di questa cerimonia, dove ho tirato una freccia per abbattere un muro, chiaramente simbolico, abbattendo questo muro sono usciti poi tutti gli atleti disabili. Dopo Atene ho smesso di tirare, ho smesso di fare attività, è ovvio che prendere una decisione di questo tipo non è una decisione che si prende facilmente, ma è stata una decisione ponderata, valutata, studiata più e più volte, e alla fine ho deciso di smettere. Perché? Perché ero stanca dopo vent'anni di un impegno così totale, perché non può esserci tanto altro, perché giornalmente devi dedicare ore di allenamento. mio marito, che all'epoca era mio fidanzato, abitava a Milano, ci si vedeva al fine settimana forse, ci si lasciava i biglietti post-it, e quindi insomma dovevo pensare anche a me stessa, alla mia carriera professionale, perché io ho sempre lavorato, perché il tiro con l'arco non mi ha permesso di vivere senza lavoro, e quindi dovevo lavorare, ho dovuto pensare alla mia carriera professionale, alla mia famiglia, alla mia casa, insomma, e poi ero stanca, stanca mentalmente, perché vorrei dire che tutto è importante, sia l'impegno mentale, quello fisico, ma anche il materiale, tutto è importante, però nel tiro con l'arco la componente mentale è quella che è maggiore, più grande, e si stanca, si stanca molto, e quindi stancando la mente si stanca anche il fisico, uno non può vivere sempre stressato e non divertirsi più, perché secondo me è giusto che quando uno fa qualcosa si debba anche divertire, fin tanto che la sofferenza è maggiore del divertimento, è meglio che si smetta. Ho smesso di tirare, però non ho smesso di rimanere nel campo dello sport, perché sono rimasta a fare politica sportiva dentro al CIP come membro di giunta, come rappresentante atleta prima e quindi come presidente della Commissione Nazionale Atleti, ho fatto parte anche della Commissione Nazionale Atleti del CONI, come componente del Consiglio Nazionale del CONI come rappresentante atleta, e quindi ho continuato nell'ambito per cercare di portare la mia esperienza di atleta dentro a un mondo, quello politico, che magari non tutti hanno vissuto come atleti. Dagli albori dell'attività sportiva paralimpica sono cambiate tantissime cose, ma sono cambiate anche da quando ho cominciato io, tantissime cose. Basta pensare che nell'88, mi ricordo che alla cerimonia di apertura, Seulno 88, alla cerimonia di apertura c'erano due paesi che non avevano acquistato i diritti per trasmetterla, una era un paese africano e l'altra era l'Italia, fino ad arrivare a Londra dove c'era una copertura, direi molto buona, perché oltre alla RAI c'era anche Sky, insomma c'era... e quindi mi auguro che anche a Rio sia ancora meglio, insomma. Basti pensare che fino ad Atlanta non c'erano premi medaglia, ad Atlanta era una cosa minima i premi medaglia, non so, per farti un esempio, 12 milioni, la medaglia d'oro, quando magari per il CONI era ovviamente 150 o 130, se non ricordo. Ora siamo arrivati che la medaglia d'oro vale 70 mila euro, ma anche la considerazione che tu puoi incontrare per strada è cambiata. Tante volte mi capita di incontrare gente che fa «ho visto, che bravi, oppure mannaggia hanno perso...» per dire, quindi, no, secondo me sono cambiate tantissime cose, ma anche a livello, ovviamente, a livello politico, anche perché, insomma, se non ci fosse stata la politica sportiva, magari certi risultati non si sarebbero avuti. Poi c'è anche da dire che negli anni 60, insomma, per il disabile era quasi l'unica opportunità, l'unica alternativa a non fare nulla. Adesso, insomma, grazie a leggi ad hoc, vedi l'inserimento sul lavoro, vedi l'abbattimento delle barriere architettoniche, il fatto di guidare, di muoversi, dell'accessibilità che ovviamente è molto migliorata rispetto a una volta, anche una persona disabile che decide di fare sport è perché appunto ha scelto di fare sport, e questa secondo me è una cosa molto importante.